stamattina sono qui alle ceramiche crestani per vedere come continua la lavorazione delle ciotole cuore di nove allora qui sta mettendo il biscotto che poi verrà infornato cotto e poi smaltato e successivamente mani esperte faranno le decorazioni per queste ciotole Giannino crestani in questo momento sta smaltando di maiolica le ciotoline maiolica per chi non lo sa è uno smalto bianco la città la città la città la città per la città 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 e adesso di grani si trova anche in rosa scuro però adesso grazie Grazie.